Musica 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 Stimați călători, la conducerea fenului 367, se află mecanicul Osmar Aurel, care este la ultimul într-un grup maxima fenului, urmând să iați la felșe. Domnule Aurel, colettivo di Stasi Eurasia, fa doreste pensiare lunga e molta sanità. Abbiamo fatto un po' di stresi. E' una strada di stresi. Il nostro corso di Stasi Eurasia, l'arriano, svegliare un po' di stresi del quale, ma sono stati o svegliati. La strada di Stasi Eurasia, è un po' di stresi. L'arriano, e' un po' di stresi. E' un po' di stresi, ma' in questo modo? Non sono stati più piccoli di stresi. Noi sono stati più piccoli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.